Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio subito aggiornarvi con quello che è successo con Crypto.com e CRO perché sta continuando a sconvolgere il mondo cripto in generale ha stretto una nuova partnership molto molto importante con la Formula 1 soprattutto ragazzi il prezzo sta performando alla grande in poche settimane siamo passati da 0.30 centesimi di dollaro a 45 centesimi fino ad arrivare a 50 centesimi ragazzi nel momento in cui sto registrando in questo video voglio parlarvi di alcune cose super importanti quindi come al solito vi invito a guardarlo fino alla fine perché lo reputo super importante voglio farvi capire davvero ragazzi il potenziale che ha Crypto.com e il suo token CRO perché quello che sta facendo è incredibile davvero tra pochi giorni ci sarà il Super Bowl credo il 14 febbraio e il prezzo potrebbe subire una variazione perché durante il Super Bowl ci saranno le cosiddette le famosissime pubblicità che verranno pagate milioni e milioni di dollari per circa 15 secondi di spot quindi per farvi capire ragazzi che questi exchange come Coinbase come Crypto.com come FTX hanno tanta liquidità per poi investirla in pubblicità soprattutto poi il token CRO e Crypto.com avranno tanta ma tanta visibilità poiché il Super Bowl è un avvenimento sportivo seguitissimo in America e in tutto il mondo e cosa non meno importante in queste settimane vi ho detto che il prezzo era bassissimo infatti entrare a 35 centesimi di dollaro a 38 centesimi di dollaro poteva essere una entry davvero interessante per chi mi ha ascoltato ha fatto dei profitti assurdi soprattutto adesso basta parlare perché voglio subito mostrarvi questa partnership voglio anche mostrarvi il grafico perché abbiamo rotto una resistenza che ci portiamo avanti ormai da mesi e quindi per questo il prezzo potrebbe continuare a salire e cosa non meno importante in questi giorni vi ho visti un po' scarichi quindi distruggete il tasto di mi piace lasciate un commento condividete il video perché ripeto sempre che il supporto da parte vostra è fondamentale senza di voi non potrei creare un video al giorno e se non siete iscritti come al solito ovviamente iscrivetevi anche al canale per continuare a seguirmi perché ogni giorno vi aggiorno su tutto quello che succede nel mondo cripto soprattutto in modo semplice e chiaro così tutti possono capire anche se siete neofiti partiamo subito dalla situazione del mercato nelle ultime 24 ore vediamo Bitcoin a 44.530 dollari nel momento in cui sto registrando e tengo tantissimo a specificare ragazzi che in questo momento i prezzi sono così tra qualche ora potremo vedere anche Bitcoin a 40.000 dollari è successo il mercato è altamente volatile quindi se guardate questo video tra qualche ora potrebbe essere che i prezzi siano diversi e non voglio assolutamente che commentiate criticandomi perché non dipende da me soprattutto ragazzi vediamo il prezzo di croc che sta registrando un più 7% quasi e un più 24% negli ultimi 7 giorni e per ora siamo a 0.51 centesimi di dollaro ragazzi che non è per niente poco anzi è tantissimo poiché eravamo addirittura a 0.37 eccetera quindi ad esempio il 3 febbraio il prezzo di croc era di 0.39 centesimi di dollaro ragazzi 0.39 siamo a 0.51 adesso voglio mostrarvi anche il grafico perché dal grafico si capisce tutto meglio ho tralciato questa linea per farvi capire la resistenza che stiamo portando avanti ormai da inizio gennaio stiamo toccando questa resistenza il prezzo scende vedete più volte ha toccato questa resistenza e poi il prezzo è sceso l'ha toccata qui qui l'ha superata però poi è risceso l'ha toccata qui l'ha toccata qui qui invece l'ha toccata e finalmente ha rotto questa resistenza questo che significa che in questa fase ci sono tante persone che comprano e vendono il prezzo potrebbe raggiungere di nuovo un livello molto interessante e addirittura anche i 0.68 centesimi di dollaro soprattutto perché ragazzi già vi ho detto che tra pochi giorni ci sarà il super ball oppure il crypto ball e questo che può significare può significare che i prezzi potrebbero esplodere quindi secondo questo studio del grafico dopo aver rotto questa resistenza il prezzo potrebbe raggiungere un livello molto molto importante però come dico sempre ovviamente tramite l'analisi tecnica non è che possiamo prevedere il futuro nel senso che non è la sfera magica che ci permette di scoprire qual è il segreto diciamo delle crypto però tramite diciamo questi studi c'è possibilità di capire dove è diretto il prezzo in base a vari pattern in base a vari indicatori eccetera adesso arriviamo subito al dunque voglio mostrarvi questa partnership di cui parlavo infatti ragazzi vediamo benissimo qui che Crypto.com sta collaborando con la formula 1 e in questo tweet hanno scritto che sono orgogliosi di essere il primo title partner ufficiale della formula 1 del gran premio di Miami ragazzi cosa incredibile voglio mostrarvi un po' velocemente questo video perché ovviamente è fatto super bene e vediamo lo sponsor ragazzi Crypto.com con le macchine della formula 1 quindi tanta tanta roba ripeto per Crypto.com già ve l'ho detto spesso è assurdo tutto ciò vedete lo sponsor che ovunque e questo che vuol dire ragazzi vuol dire che il futuro per Crypto.com e per il token CRO è da urlo davvero voglio tanto che le persone che mi seguono capiscono il potenziale che c'è con CRO e che per adesso il prezzo potrebbe essere davvero basso ad esempio l'anno prossimo potrebbero dirvi wow biato te che hai acquistato quando CRO era a 0.39 adesso è troppo alto per acquistarlo eccetera quindi ora che mi state ascoltando potreste essere tra i fortunati che hanno acquistato il token CRO prima che esploda ovviamente questo non significa che sicuramente accadrà però guardate tutte queste partnership che vengono strette con la formula 1 ragazzi stiamo parlando della formula 1 stiamo parlando dell'NBA stiamo parlando della serie A quindi livelli altissimi davvero non sono sciocchezze per niente girano milioni milioni e milioni di dollari il token CRO può fare cose assurde sono sicuro che prima o poi ragazzi il prezzo esploderà e per quest'anno mi aspetto anche di arrivare di nuovo a un dollaro io ve lo sto dicendo non sono consigli finanziari attenzione non voglio che capiate che vi sto istigando che vi sto dicendo per forza investite perché sennò perdete il treno voglio solo farvi capire che in base a tutti questi catalizzatori secondo me il prezzo potrebbe subire una variazione molto interessante in un tempo non troppo lungo chi mi ha seguito in questi giorni sa benissimo che penso cioè che si sta creando una mini bolla poiché il Super Bowl porterà tante persone diciamo a iscriversi a Crypto.com per ricevere il bonus e accedere il prezzo potrebbe subire una variazione nel senso che il prezzo sale le balene ne approfittano e liquidano le persone che sono entrate quindi il prezzo scende potrebbe essere una supposizione detto in maniera semplice però in questi giorni ne ho parlato nello specifico e vi invito a guardare quei video li trovate sempre sul mio canale adesso continuiamo ragazzi perché tramite questo documento che trovate anche su Twitter l'account Twitter di Crypto.com viene spiegata quale è la partnership dove vedremo il logo perché cosa stanno facendo eccetera non ve lo leggo in questo video se no dura davvero troppo e voglio mostrarvi anche questo articolo che è molto interessante perché durante il Super Bowl che viene chiamato anche il Crypto Bowl ci saranno pubblicità di Amazon, Disney, General Motors, Toyota e addirittura anche Coinbase, Crypto.com e FTX ragazzi cosa assurda e addirittura lo spot di 30 secondi mandato in onda sulla NBC durante il Super Bowl si aggira intorno a 7 milioni di dollari cioè ragazzi 30 secondi, 7 milioni di dollari per lo spot immaginate quante persone guarderanno gli spot di Crypto.com e Coinbase entreranno nel mondo cripto e i prezzi potrebbero salire ovviamente sono supposizioni vediamo un po' che succede potrebbe essere anche che il mercato già ha scontato questi prezzi e che quindi non salirà il mondo cripto è totalmente imprevedibile per questo è affascinante detto questo voglio mostrarvi di nuovo il Bitcoin Fear and Greed Index siamo al numero 54 neutrale e soprattutto ragazzi quando questo numero avanza non è un buon momento per comprare è un buon momento per vendere perché le persone sono avide e quindi sanno cosa fare il momento buono per comprare è qui quando il Fear and Greed Index era a livelli 14, 20 eccetera in queste settimane l'abbiamo visto così basso e chi mi ha ascoltato ha fatto dei profitti davvero interessanti ah prima di continuare voglio parlarvi di Young Platform perché spesso mi contattano persone che sono neofita di questo mondo non conoscono il mondo cripto appieno e tramite Young Platform c'è possibilità di consultare questa academy che ci permette di studiare il mercato in generale la blockchain, la cripto economia, le criptovalute Crypto Heroes eccetera tutti i progetti in modo semplice e dettagliato articoli fatti davvero bene per leggere questi articoli ragazzi iscrivetevi tramite il mio link trovate il link qui in basso in descrizione di questo video e tramite il mio link c'è anche possibilità di ricevere 10 euro di bonus se depositate 50 euro sia il bonus che le 50 euro poi sono subito prelevabili detto questo ovviamente ragazzi visto che stiamo parlando di bonus c'è anche possibilità di ricevere il bonus tramite il mio link su Crypto.com basta solo cliccare sul link che trovate qui in basso in descrizione come al solito e ricevete 25 dollari bonus in cro se mettete in stake 350 euro per la carta rossa minimo ovviamente e soprattutto ragazzi la carta rossa ha tanti benefit ad esempio il 2% del cashback eccetera dategli un'occhiata sull'applicazione ripeto il link per registrarvi è qui in basso in descrizione nel momento in cui questo video uscirà non sarò a casa mia ragazzi sarò di nuovo in viaggio però il 17 febbraio sarò a Napoli e se sono riuscito a stringere una collaborazione con Welly c'è possibilità di incontrarmi chi è di Napoli possiamo incontrarci eccetera vi aggiorno sempre tramite Instagram e vi invito a seguirmi anche lì perché vi aggiorno ripeto 24 ore su 24 su tutto quello che succede nel mondo crypto mi trovate come Stefano Castiello la stessa foto che ho su YouTube e soprattutto ragazzi importantissimo il mio profilo è privato nel mio nome utente non c'è nessun numero nessuna lettera nemmeno è Stefano Castiello attenzione il mio profilo è privato c'è un profilo pubblico che contatti i miei iscritti per farli investire in sitiscam non sono assolutamente io fate assolutamente ripeto attenzione detto questo se questo video vi è piaciuto realmente lasciate un bel mi piace per supportarmi se non siete iscritti per rimanere aggiornati 24 ore su 24 su tutto quello che pubblico iscrivetevi al canale per non perdervi nulla e soprattutto ragazzi registrerò i video in una location un po' diversa vi dico che la location inizia per L prenderò il volo da Napoli la location inizia per L e mi servirà il passaporto fatemi sapere nei commenti secondo voi dove sto andando a chi indovina 500 euro in SHIB lo sto scherzando però poi vi aggiorno su Instagram come al solito quindi se volete sapere dove sto andando seguitemi su Instagram grazie mille ancora a tutti ragazzi noi ci vediamo domani con la prossima avventura ciao ciao